dove sono? dove cazzo sono? funziona bene non è ancora più un pozzo di attenzione non è ancora più 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 che posto è C'è nessuno? Ciao Giovanni E tu chi sei? Sono un vecchio amico Che vuoi da me? Dov'è mia moglie? Voglio fare un gioco con te Tua moglie è qui È mia prigioniera Ma tu non devi preoccuparti Non è in pericolo Che gioco? Che gioco? Che stai parlando? Dovrai fare una scelta importante Tra quella che è la tua passione E tua moglie Se sceglierai l'opzione numero uno Il Palermo In tre anni Sarà in Champions League Ma tua moglie Ti tradirà con tutti Col macellaio Col giornalaio Con tuo cognato Col sigliolano Col panettiere Con il tuo zio Con il commercialista Con l'assicuratore Con il sindacalista Con il tuo capo Con i tuoi colleghi Con la tua ex E con quella compagna Ti ricordi Quella che ti piaceva tanto All'elementare All'elementare Oppure? Oppure Se sceglierai la seconda opzione Tua moglie ti sarà fedele per sempre Ma il Palermo Marcirà in serie C per sempre Allora Cosa sceglie? Marcirà in serie C per sempre Marcirà in serie C per sempre Marcirà in serie C per sempre